Allora siamo tutti figli e amici per fare gli auguri a Lele Queen, siamo tutti qua a fatti gli auguri di buon compleanno quindi tanti auguri alle Lele Queen, tanti auguri dalle Lele Queen, tanti auguri, 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 allora io in questa torta meravigliosa però non c'entro nulla perché te l'ha fatta Esther, questa torta meravigliosa, Esther ha lavorato tutto il qui perché avevo troppe cose da fare però non volevamo rinunciare assolutamente a farti gli auguri di compleanno e per farla questa bellissima torta a forma di cuore, un sospritto a gurillele, e là è un pan di spagna con la crema pasticcera, ricoperta di cioccolato fondente e decorata con bagna e scaglie di cioccolato rosa, quindi favolosa, favolosa davvero, mi piace tantissimo, ma devo essere sincero, io non c'entro niente in questa torta, c'entro invece nel fatto che ti vogliamo tanto bene, vogliamo bene alla tua famiglia, vogliamo bene a Max, e che siete persone troppo importanti per noi, e che niente, vogliamo adesso ricreare un'atmosfera per farti soffiare la calderina con noi, vai, prepariamoci, sei pronta? sei pronta? sei pronta? sei pronta? sei pronta? vediamo pure softbox, siamo completamente quasi al buio, e adesso accendiamo la calderina per te, la, happy birthday happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday alle qui, happy birthday to you, bravo! aspetta, 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 ecco, la soffiata, va bene, la ripasciate, vai, Danilo, Danilo non può resistere, non sa resistere a casa, accendi il softbox, così almeno ci vediamo un po' meglio, della nostra bruttezza, eh, della mia, dico, bruttezza? allora, aspetta, aspetta, allora, Lelequine, sei pronta? è il mio desiderio? uno, due, tre, bravo! vuoi dare un borsetto alla torta? ma te la porto lì, ah, va bene, adesso basta scherzare, un augurio da tutti noi alle Lelequine e a Danilo che si sta mangiando la torta, ciao Bellino, ciao Bellino, ciao Bellino, ciao